Se manterrete questo stile cordiale e gentile, riuscirete ancora a far vedere, non solo a voi stessi, ma anche agli altri, i segni di una primavera quando tutti vedono l'inverno. I segni di ciò che si può fare quando tutti dicevano, ma sarebbe meglio di no. Io Paolo accolgo te Martina come mia sposa. Io Martina accolgo te Paolo come mio sposo. I segni di quella pacata determinazione con la quale si farà quel che si farà. I segni di ciò che si farà quel che si farà. I segni di ciò che si farà quel che si farà. I segni di ciò che si farà quel che si farà.